Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Vergine Santissima, che a Fatima hai rivelato al mondo i tesori di grazia nascosti nella pratica del Santo Rosario, infondi nei nostri cuori un grande amore a questa santa devozione, affinché, meritando i misteri in esso contenuti, ne raccogliamo i frutti e otteniamo la grazia che con questa preghiera ti chiediamo. A maggior gloria di Dio e a vantaggio delle nostre anime, così sia. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Cuore immacolato di Maria, prega per noi. Preghiamo. Maria, Madre di Gesù e della Chiesa, noi abbiamo bisogno di te. Desideriamo la luce che si irradia dalla tua bontà, il conforto che ci proviene dal tuo cuore immacolato, la carità e la pace di cui tu sei regina. Ti affidiamo con fiducia alle nostre necessità, perché tu le soccorra, i nostri dolori perché tu li lenisca, i nostri mali perché tu li guarisca, i nostri corpi perché tu li renda puri, i nostri cuori perché siano colmi d'amore e di contrizione, e le nostre anime perché con il tuo aiuto si salvino. Ricorda, Madre di Bontà, che alle tue preghiere Gesù nulla rifiuta. Concedi il sollievo alle anime dei defunti, guarigione agli ammalati, purezza ai giovani, fede e concordia alle famiglie, pace all'umanità. Richiama gli erranti sul retto sentiero, donaci molte vocazioni e santi sacerdoti, proteggi il Papa, i Vescovi e la Santa Chiesa di Dio. Maria, ascoltaci e abbi pietà di noi, volge a noi i tuoi occhi misericordiosi. Dopo questo esilio, mostra a noi Gesù, frutto benedetto del tuo grembo, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.